D'Antonio Ascensori, professionisti dell'elevazione, senza limiti. www.dantonioascensori.it In questi giorni, gli atleti del club Scherma Salerno sezione di Cava dei Tirreni, il cui direttore tecnico e l'ex campionessa di scherma Rosanna Pagano, si allenano in vista dei primi impegni ufficiali. I ragazzi hanno svolto ieri presso la palestra Body Planet a Cava la preparazione atletica agli ordini di Simona Fioraso e oggi, sempre al Body Planet, effettuano una simulazione di gara sotto la supervisione degli istruttori Giuliana Bellizia e Giovanni Di Fidio. La preparazione atletica, tra l'altro, è stata svolta utilizzando le attrezzature della Tecno Gym, messe a disposizione dalla stessa palestra. Ce ne parla la stessa Simona Fioraso. L'attrezzo che utilizziamo, che abbiamo utilizzato, è una stazione multifunzione. Abbiamo utilizzato la leg extension per il rinforzo del quadricipide. Da qui siamo andati poi alla seconda postazione, che permette di lavorare la parte alza del tronco, i pettorali. Da qui siamo passati all'altra postazione, che permette di lavorare la parte del dorso. Io consiglio sempre ai ragazzi di allungarsi, che una funzione fondamentale è lo stretching. E qui abbiamo anche due macchine apposta per allungare e svolgere stretching. La prima è una macchina che va ad allungare i Leopsoas, faccio vedere. Qui un'altra macchina indispensabile per allungare la parte posteriore del bicipite femorale, che abbiamo fatto lavorare. Le macchine che hanno utilizzato i ragazzi sono sempre anche queste fornite dalla Tecnogym, utilizzate per il lavoro cardiovascolare, per la resistenza aerobica, per fare fiato e per riscaldare tutto il corpo. Io oggi le ho posizionate per 5 minuti, una fase di riscaldamento, ma abbiamo anche sezioni dove, specifico nel lavoro aerobico, indispensabile per un atleta e per mantenere le resistenze. I cadetti tesserati con la sezione cavese del club Scherma Salerno, che saranno impegnati nel prossimo weekend a Foggia, nel primo turno nazionale, saranno Claudia Montefusco, ranking 46, e Laura Bruno, che sarà il suo debutto per la sciabola individuale femminile, e Gerardo Alfano, ranking 73, per la sciabola individuale maschile. Le gare si svolgeranno sabato 27 ottobre per i ragazzi e domenica 28 per le ragazze, tutte presso la struttura Fencing Ateneo di Scherma di Foggia.